allora mi sto dicendo ok ci siamo siamo live siamo live su youtube siamo live nel webinar ok ciao a tutti anche se per adesso siamo in pochi perché devo rimandare il link all'altra live ok bentornati nel mio canale in questo momento abbiamo un attimo di problemi tecnici ma tra poco ci siamo quindi io entro qui sto collegando scusate scusate intanto vi presento Diego e Paolo ok ok va bene ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio canale siamo qui oggi per un webinar Q&A in cui ci sono anche Paolo come potete vedere Paolo Manini del blog p2pitalia.com ciao e Diego Dalcero CEO di Cryptalia e se vuoi iniziare le presentazioni Diego io partirei da te ok va bene allora io sono Diego ho 44 anni sono italiano ho vissuto 23 anni all'estero quindi ogni tanto se dico qualche stupidata un congiuntivo fuori posto vi prego perdonatemi e niente sono il CEO fondatore di Cryptalia un'idea nata nel 2014 poi diciamo portata a compimento già dal 2017 fondata l'azienda nel 2018 e operativa diciamo da pochi mesi quindi da fine febbraio live nel mercato italiano la mia esperienza è sempre stata nel mondo dell'IT ho fondato una società a Barcellona che sviluppava software e questa società esiste ancora oggi io sono uscito ho fatto l'exit a novembre scorso e ho sempre lavorato nel mondo della finanza e dell'IT per la finanza diciamo quindi grosse banche ai studi finanziari assicurativi eccetera l'idea di Cryptalia come dicevo è nata nel 2014 ma se vuoi lo spegniamo dopo diciamo come intro secondo me è già più che sufficiente ok va bene intanto dico subito che questa questa live questo webinar sarà diviso in tre macro blocchi in cui ovviamente voi potete fare tutte le domande che volete nel frattempo sto cercando di mandare il link che ho mandato tutti come pre memoria a questa live e infatti mi hanno confermato che non va quindi questi blocchi di argomenti riguarderanno soprattutto la differenza tra le regolamentazioni di peer-to-peer lending platform quindi piattaforme peer-to-peer lending italiane ed estere e da questo punto di vista chiederei subito a Diego di specificare un attimo quali sono le regolamentazioni sotto cui deve a cui deve sottostare una piattaforma di peer-to-peer lending italiana esatto allora cominciamo da proprio della tua bella domanda qual è la regolamentazione di una piattaforma peer-to-peer lending italiana quindi parliamo di prestiti ok quando si parla di prestiti chi fa chi è il padrone diciamo dell'ambito dei prestiti di solito in un paese europeo è la banca nazionale quindi nel nostro caso la banca d'Italia la banca d'Italia quindi essendo diciamo la padrona di tutto la regolamentazione dei prestiti sancisce in uno dei tanti documenti tube tuff tuir eccetera che chi ha una autorizzazione come istituto di pagamento può anche offrire la possibilità di avere una piattaforma ma non solo di avere una piattaforma ma anche di dare dei prestiti o di utilizzare diciamo i flussi di denaro che gestiscono per fare dei prestiti sia alle persone che alle aziende ok che è un po' diciamo quello che fanno tutte le piattaforme regolamentate in Italia ad oggi quindi o sono direttamente degli istituti di pagamento come nel caso di Soisi o nel caso di Prestiamoci o sono degli agenti di istituti di pagamento come nel caso degli altri come si chiama degli altri istituti gli altri operatori che esistono ad oggi nel mercato oggi a Bergamo abbiamo un bel sole mi sposto per indietro ok e quindi questa diciamo è la regolamentazione numero uno quindi istituto di pagamento cosa vuol dire l'istituto di pagamento l'istituto di pagamento è quel ramo diciamo delle gestioni autorizzative in cui c'è il più basso livello quasi bancario c'è l'istituto di pagamento l'istituto di moneta elettronica e poi la banca l'istituto di pagamento in teoria l'unica cosa che può fare è gestire dei conti di pagamento quindi io verso dei soldi che hanno un solo obiettivo servire il pagamento per qualcosa o nel caso del per-to-peer lending vengono utilizzati questi flussi per fare dei prestiti dell'azienda quindi la piattaforma non ha accesso a quei soldi uno due l'istituto di pagamento stesso non ha accesso a quei soldi evidentemente sono su un conto corrente ma essendo un ente vigilato e normato diciamo deve sempre avere una parità uno a uno diciamo dei soldi che ha sul database ok per capirci dei conti degli utenti e sul sul conto corrente quindi se gli utenti hanno complessivamente 100.000 euro versatici devono essere 100.000 euro paro paro nel conto corrente ok questa è l'Italia la prima domanda cosa succede se uno di questi questi enti non rispetta questa regola allora è anche relativamente difficile non rispettarla nel senso che sono molto controllati nel senso che ci sono delle delle finestre di tempo in cui uno deve dare notifica di quello che succede evidentemente può sempre succedere la truffa in cui un'azienda utilizza i soldi che sono sul conto per non poterlo fare ma è un rischio molto grande perché prima di tutto mettono in gioco il capitale che è un capitale regolamentato per essere istituto di pagamento il minimo sono 125.000 euro per essere moneta elettronica che è a livello un po' più alto sono 350.000 euro ok è il capitale minimo sotto il quale non si può più scendere se l'azienda l'istituto di moneta elettronica di pagamento ha avuto delle perdite deve compensare questa cifra di capitale mettendo dei soldi e vi faccio un esempio Satispay Satispay è un un entità di moneta elettronica un istituto di moneta elettronica il capitale sociale che hanno è molto alto non solo perché hanno fatto tanti round di aumento di capitale ma anche perché hanno dovuto cavolo sta luce compensare le perdite dei primi anni ok quindi il loro capitale è molto alto quindi stanno mettendo in gioco se facessero lexiz anche tutto quel capitale lì quindi non è una cosa da prendere alla leggera e su cui essere molto così se un ente non è controllato non è vigilato non è sottoposto diciamo a questi tipi di controlli evidentemente non ti dico che è più facile riuscire a fare qualcosa di non corretto ma evidentemente non è così controllato e vigilato ok intanto Cryptalia è controllata da che ente riesci a spiegarlo Digo? allora sì noi siamo agenti di un istituto di moneta elettronica ok nel nostro caso è MangoPay abbiamo scelto MangoPay perché tra molte piattaforme utilizzano LemonWay che è l'altro diciamo più conosciuto forse in Italia che però è solo un istituto di pagamento non è di moneta elettronica il vantaggio di un istituto di moneta elettronica è che il conto è proprio un conto nominativo della persona quindi io come cliente di Cryptalia o diciamo utente iscritto sulla piattaforma di Cryptalia ho un IBAN nome mio non è un IBAN dell'istituto di pagamento questo secondo noi era già un vantaggio che ci è piaciuto di più e ti permette diciamo anche una gestione diversa dei flussi ok per fare un po' la differenza anche il potere utilizzare diciamo questi conti di pagamento anche per altre cose non solo per aver con la finalità unica del pagamento ok ma anche come dei conti veri e propri ok che è una funzionalità che ci sembrava molto più molto più comoda no è quella che abbiamo scelto in Italia noi però siamo nati già con una con un'idea di andare sul mercato europeo per cui già da deve essere stato dicembre 2018 abbiamo cominciato a lavorare con il regolatore spagnolo perché la Spagna lo spiego dopo però vabbè ci ho vissuto 16 anni in Spagna per cui conoscevo bene un po' il mercato e anche il regolatore sapevo che c'era era relativamente facile discutere con loro per ottenere un'autorizzazione come PFP che è una piattaforma di finanziamento partecipativo che è una piattaforma effettivamente dedicata a tutto quello che è crowdfunding o crowdlending una piattaforma cioè una piattaforma è un'autorizzazione specifica è molto simile all'autorizzazione che uno ottiene come istituto di pagamento il processo autorizzativo è quasi uguale le richieste di capitale sono un po' più basse sono 60.000 euro ma tutto il lavoro che abbiamo fatto in questo anno e mezzo con il regolatore spagnolo ce l'hanno aumentato ai 120.000 euro ok quindi a giorni ci hanno informato ieri è arrivata proprio una mail dal Banco di Spagna che diciamo che hanno liberato l'iter amministrativo quindi siamo diciamo accettati per poter andare avanti con l'autorizzazione avete anche un ente giuridico in Spagna oppure siete ok è un ente giuridico è un SPA spagnola ok in Italia c'è un SRL però in Spagna è un SPA che dipende 100% dalla SRL italiana ok proprio è una filiale diretta al 100% e diciamo è autorizzata proprio come un istituto di pagamento è proprio un livello sotto diciamo che ti obbliga tra le altre cose che c'è una certa coerenza a livello europeo in tante altre cose non c'è ma diciamo in questa più o meno uno potrebbe intuire una coerenza amministrativa e normativa perché abbiamo scelto questa strada perché già dal 2018 l'Europa sta parlando di unificare tutti quelli che sono i regolamenti europei dei crowdfunding che come sappiamo se non lo sapete ve lo spiego però in Italia è stato il primo paese d'Europa a introdurre una norma quindi un'autorizzazione per i portali di equity crowdfunding perché equity perché come dicevamo prima lo fa la Consob la Consob solo controlla il mercato dei valori quindi dei prestiti se ne frega altamente tra virgolette cioè non è proprio vero del tutto però diciamolo per capirlo alla semplice farla molto easy è così quindi quando la Consob ha detto io normo ha detto normo l'equity quindi le partecipazioni nelle società per cui tutti i portali che c'erano in Italia fino a poco tempo fa diciamo quindi stiamo parlando fino a ottobre 2019 solo ed esclusivamente potevano fare quote di società nel crowdfunding poi è stato modificato moltissime volte questo regolamento italiano fino ad introdurre anche la possibilità di fare dei prodotti di debito come ad esempio i mini bond ma limitati agli investitori istituzionali quindi o che hanno dichiarato un determinato patrimonio quindi da mezzo milione in su o che possono investire un minimo di 125 mila euro nel singolo progetto questo diciamo è una limitazione molto grossa ad oggi in Italia c'è tantissima discussione nel mondo legal ma anche amministrativo di perché esistono queste due vie separate quindi il crowdfunding che permette un po' di lending però molto limitato normativa consob che ricordiamo i portali non hanno nessuna di crowdfunding non hanno nessun collegamento con gli istituti di pagamento ok quindi cioè non è uno che entra alla piattaforma fa un bonifico sulla piattaforma e la piattaforma lo gestisce sino che devono essere gestiti da un ente terzo che può essere una sim o una banca ok quindi il portale riceve notifica dalla banca che il bonifico è avvenuto o in alcuni portali di equity crowdfunding è addirittura la stessa azienda che dice oh mi è arrivato un bonifico di Pinco Pallino o di Diego Diego ha investito allora deve confermare il portale quindi tecnologicamente uno potrebbe fare un portale di equity crowdfunding che per fortuna non tutti sono così ma alcuni sì con un wordpress mette lì mette i progetti e poi tanto la gestione la fa tutta al telefono con la banca il caso del lending è molto diverso diciamo perché tecnologicamente ci sono diciamo tutti quei scambi più frequenti quei collegamenti esatto e tornando al discorso l'Europa vuole unificare un po' tutti questi regolamenti perché in Francia in Spagna in Portogallo ma anche in Germania in Inghilterra il lending e il equity crowdfunding sono dentro la stessa autorizzazione infatti quelle che noi abbiamo fatto in Spagna ci permetterebbe anche di ottenere di poter vendere quote di start-up ok è un'opzione un check vuoi vendere quote di start-up sì no ok quindi noi abbiamo scelto di no perché non vogliamo fare equity in questo momento ma probabilmente neanche davanti il nostro scopo è sempre stato quello sui prodotti debito ok quindi entrare sui prestiti e sui bond ok ok fermo un secondo per salutare i ragazzi in chat e leggere un attimo la chat allora Luca Graziano ciao ciao anche a te grazie per quello che fai per noi in realtà devo ringraziare io voi perché mi sostenete veramente tanto Luca Malacarne ciao buonasera Luigi buonasera Bosco L'Otube e New Vision ci potete parlare del rate con Isin NHI in realtà è un po' fuori tema rispetto a questo webinar quindi dobbiamo fare riferimenti le domande devono essere su peer-to-peer lending tassazione italiana differenza tra Italia ed estero per quanto riguarda la piattaforma di peer-to-peer lending o domande specifiche su Triptalia questi sono i tre macro argomenti in cui rispondiamo ciao Angelo ciao Alessio ciao Francesco ciao Alfonso ciao ciao Mario ciao Massimo scrive ciao a tutti e grande Diego magari lo conosci e poi c'è ciao Matteo Andre Ferrari fate dal sostituto d'imposta se no perché ok cominciamo da questa bella domanda allora sostituto d'imposta il regolamento italiano risale al 1994 ok quindi è un articolo nel Tuir che indica che un sostituto d'imposta deve essere iscritto a un albo italiano quindi in teoria chi è agente di un istituto di pagamento o di una banca potrebbe essere ma anche di un comunitario non potrebbe fare da sostituto d'imposta adesso l'interpretazione è dell'agenzia delle entrate che ad alcuni portali ha già mandato una letterina che loro hanno chiesto ma devo fare il sostituto d'imposta o meno e in base a questo articolo del Tuir che indica deve essere iscritto all'albo quindi se l'istituto di pagamento è italiano nessun problema voi fate la sostituto d'imposta se l'istituto d'imposta se l'istituto di pagamento è francese o lussemburghese o tedesco o di dove sia non fate la sostituto d'imposta questo è quello che dice l'agenzia delle entrate però se noi guardiamo tutti più o meno o tutti la maggior parte degli operatori che ci sono nel mercato ricordo October Lender e anche altri fanno la sostituto d'imposta ok noi ci siamo fermati a questa lettera dell'agenzia delle entrate e abbiamo cominciato a lavorare sia dal punto di vista legal che con i commercialisti per capire come funzionare allora il primo commercialista ha letto ha detto guarda questo è così però interpretabile nel senso che questo articolo del Tuir era del 94 e quindi non c'erano queste forme di istituto di moneta elettronica passaportato a livello europeo però l'agenzia delle entrate nella lettera che hanno mandato a se non mi sbaglio è Ener2Crowd è stata molto chiara voi non fate l'estituto d'imposta nel momento in cui noi avremo una risposta chiara noi evidentemente vogliamo essere sostituto d'imposta anche perché in Spagna dobbiamo farlo per forza ok il sostituto d'imposta non c'è alternativa perché essendo regolamentato devi farlo per forza devi farlo a chi? evidentemente ai privati ok non alle società e devi farlo nel caso spagnolo è molto specifico se il progetto è spagnolo e l'investitore è spagnolo fai il sostituto d'imposta se il progetto è comunitario non spagnolo ma il soggetto diciamo che percepisce i soldi non si fa il sostituto d'imposta ok ad esempio società italiana investitore spagnolo non ho non devo fare da sostituto d'imposta da quello che abbiamo visto che fanno altre altre piattaforme come October loro invece su tutti i progetti comunitari o meno gli investitori italiani lo fanno direttamente da sostituto d'imposta adesso non è chiarissima la normativa italiana è un po' poco chiara per dirlo in questo modo quindi nel momento in cui noi abbiamo chiaro come operare lo faremo ok ok e invece continuando nella chat forte Matteo buonasera Antonio ciao Walter Danny Craft 187 chiede Mintos sopravviverà a questa crisi? penso sia una piattaforma molto solida qui a questo punto posso dire qualcosa io nel senso che secondo me Mintos Mintos è una delle piattaforme europee più importanti e più al momento anche solide chiaramente si affida e fa da marketplace si affida il loro originator e fa da marketplace quasi puntamente e perciò bisogna sempre c'è questo rapporto di magari fiducia con tra di noi e la piattaforma Mintos il loro originator non è che io quando investo in Mintos mi affido alla due diligence che Mintos fa verso il loro originator che offre nella sua piattaforma quando andiamo a investire in paesi esteri per regolamentazione è meno stringente rispetto a quella italiana perciò ci sono rischi un po' più elevati comunque parlare di Mintos magari farò altre live o altri video più particolari per quanto riguarda Mintos continuo con la chat e Angelo io ascolto in materia non so niente però la possibilità di capire e imparare mi fa piacere e ci parli un po' più approfonditamente del landing chiede Luca Graziano Diego ok il landing allora noi quando siamo nati siamo nati con l'idea di tokenizzare prodotti di debito che avevamo notato ho notato diciamo anche nella mia vita di investitore io ho cominciato a fare investimenti più o meno l'anno 2000 con i primi risparmi che mettevo da parte e ho visto che c'erano tanti prodotti interessanti a cui io come investitore retail non avevo accesso ok la la arrabbiatura più grossa me lo sono presa nel 2009 2010 quando ho visto un'emissione di un bond quindi un'obbligazione grossa all'8,3% di di Orange quindi un grande network operator francese l'8,3% nel 2010 era un bel era un bel soldi Orange molto solida molto grande io mi sono messo d'accordo con i due amici e ho detto dai cerchiamo di tirare su quattro soldi per poterli investire ma perché mi sono dovuto mettere insieme perché non potevo investire mille euro cento euro ma neanche diecimila bisognava investire minimo centomila ok quindi la tranche minima il gettone minimo erano centomila euro e va bene allora io sono andato dal mio gestore gli ho detto guarda mi interessa questa questa obbligazione beh ho detto se arriviamo a cento magari ce la facciamo gli sono messo d'accordo con con i miei soci della società avevamo messo qualcosa eravamo in cinque quindi e siamo andati là guarda non ce la fai e ci siamo incazzati come delle iene perché poi appena è stato emesso questo questo bond è saltato 130 140 150 quindi il tuo investimento è subito ha guadagnato subito un 50% ad oggi ad oggi è da un po' che non lo guardo quel titolo però le ultime volte che lo guardavo fluttuava sempre tra il 130 al 160 ok cosa vuol dire che al di là oltre la cedola dell'8,3% che mi paga ogni sei mesi cioè annuale per ogni sei mesi vuol dire che si era rivalutato un botto ok quindi il valore del mio prestito era andato molto su e quello lì mi ha fatto arrabbiare dicendo ma perché io non posso investire in questo tipo di prodotto che il bond in sé è un prodotto che alle aziende va benissimo perché è un'obbligazione quindi permette all'azienda di finanziare dei progetti di crescita ok quindi nel caso di Orange era dei progetti giganteschi perché era un'emissione molto grande di pagare solo gli interessi e dal punto di vista dell'investitore è un rischio relativamente contenuto quindi il ratio rendimento rischio è molto buono nelle obbligazioni corporative cosa è successo nella storia degli investimenti che le obbligazioni prima del 2009 le facevano solo ed esclusivamente le grandissime aziende e lo collocavano solo ed esclusivamente le banche e le grosse banche in investimento nel 2009 è nato quel settore che oggi è conosciuto come direct lending in cui dei privati ma anche dei fondi fondi dei fondi hanno cominciato a fare degli investimenti diretti su aziende non quotate per emettere delle obbligazioni ok dei bond che è quello che forse avete anche sentito si chiama project finance cosa sono? sono obbligazioni per cui sono degli strumenti a rimborso bullet bullet quindi pagano solo il capitale e non scusa pagano solo l'interesse e non il capitale il capitale viene impagato alla fine di aziende non quotate ok i titoli in sé possono essere quotati o meno però è interessante quando sono quotati perché poi l'azienda riceve i soldi paga gli interessi e fa il progetto dal punto di vista finanziario ha molto senso perché fa molta leva quindi all'azienda l'aiuta a crescere quindi non è un debito che io ho un debito quattro anni dopo due anni ne ho già pagato la metà ok ma se io ho un bond a quattro anni dopo due anni ho solo pagato l'interesse di due anni il capitale lo sto usando ok o l'ho usato tutto quindi fa della leva finanziaria molto più a lungo termine e anche molto meglio per permettere diciamo alle aziende sempre più piccole di accedere a questo mercato era un po' l'idea diciamo con cui siamo nati noi quindi questo fatto del lending non sul prestito puro ok quindi il prestito che io ho non so 100 mila euro dopo due anni ho già pagato ormai più di 50 ma proprio quello che permette alle aziende di fare dei progetti di crescita in Italia tutti non so tutti se conoscete il mini bond avrete sentito parlare dei mini bond sono degli strumenti tra i due e i 50 milioni di euro che mettono le PM italiane per finanziare progetti di crescita hanno avuto una crescita molto grande però è molto caro è molto costoso per un'azienda piccolina emettere dei mini bond ok ci sono delle soluzioni bancarie che sono i basket bond ma anche lì ci vuole un annetto per riuscire a mettere insieme un bond quindi un'azienda che ha un progetto di crescita ha bisogno di 250 300 ma anche 2 milioni di euro o paga 400 mila euro in fee tra avvocati issuers e tutti diciamo la filiera finanziaria per emettere questo bond o non riesce a fare il mini bond nostra idea numero uno era ok utilizziamo una piattaforma online tokenizziamo questi debiti perché tokenizzare il debito perché ci permette di avere una trasparenza e di una trasmissibilità molto più diretta quindi con meno intermediari possibili per permettere ad aziende sempre più piccole di accedere a questi prodotti finanziari da un lato e per permettere ad investitori non istituzionali di accedere a questi tipi di prodotti che ricordiamo non sono prodotti altamente speculativi quindi non sono hedge per capirci ma sono dei prodotti con un buon ratio rendimento rischio ok se ricordiamo i bond corporativi hanno un tasso di default normalmente nel direct debt o nel direct lending inferiore allo 0,5% in base a determinati studi adesso vedremo con la situazione in cui siamo adesso perché è meno rischio prima di tutto l'azienda riceve subito i soldi fa il progetto che deve fare ok e paga solo gli interessi quindi non ha un peso di debito così elevato sul cash flow diretto dall'azienda e soprattutto ha meno rischio anche perché essendo a così lungo termine l'azienda ha più tempo per pianificare come nel caso necessario qualora le cose andassero male rinegoziare ripianificare i suoi debiti e nel mondo dei bond corporativi il tasso di default esiste ma è molto più basso rispetto a quello del prestito tradizionale ok non so se questa parte si è spiegata se devo ok quindi la parte di debito il lending che noi facciamo e vogliamo fare fortemente è proprio questa ok quindi quella della tokenizzazione del debito la distribuzione online di questi debiti di tipo bond ok continuo a leggere in chat perché ci sono altre domande chat zoom Nicola chiede ci può fare un esempio pratico per teo per lending con la tassazione italiana ad esempio 10.000 euro prestati e rientro del capitale con una percentuale x di guadagno ok beh in Italia c'è il 26% di trattenuta di imposta che diciamo sulle cedole viene devi fare il 26% del guadagno ok quindi può sembrare poco il 26% però se lo disegniamo su una torta è un quarto della torta è tantissimo in Spagna non è che molto meglio in Francia sono messo peggio pagano di più in Spagna pagano il 19% quindi se sul capitale non c'è che io sappia comunque ho letto un articolo sul non è semplicissima la dichiarazione dei redditi sul peer-to-peer lending straniero e capisco benissimo tutte le critiche che ci fanno sempre dicendo ma perché non siete già sostituiti in posta stiamo cercando di capirlo devo dire che noi ad oggi non abbiamo ancora pagato i primi interessi dei progetti quindi abbiamo ancora più o meno un mese e mezzo due di tempo per riuscire a concludere questa fase però per chiarezza e anche per coerenza intellettuale abbiamo deciso di non dire sì siamo un come si dice un sostituito di imposta soprattutto nelle FAQ quando ancora non lo siamo per adesso diciamo le cose come sono per adesso no poi vedremo se ce la facciamo io penso di sì perché se no non riesco a capire come lo fanno gli altri ok allora per fare rispondendo precisamente con un esempio numerico se io guadagno su 10.000 euro il 10% quindi guadagno 1.000 euro in un anno il 26% dei 1.000 euro cioè 260 euro vanno sotto forma di tasse e rimangono 740 euro netti esatto più alcune piattaforme bisogna pagare nel quadro REVU se sono straniere bisogna pagare in alcune piattaforme bisogna pagare il bollo del conto corrente se le giacenze sono superiori ai 5.000 euro quindi dal tipo di investitore che si è però quello lì diciamo molte delle piattaforme se non si supera i 5.000 euro in investimento non ci sono altre tasse da pagare Luca forse tu ok posso Diego chiederti io agganciandomi a questo discorso cosa genera l'interesse per l'investitore cioè l'investitore investe 1.000 euro in criptalia riceve degli interessi si riesce anche a dire più o meno qual è la previsione di interesse che uno può ottenere e cosa genera questo interesse qual è il sottostante o qual è l'attività che c'è in criptalia allora a noi piace non è che ci piace finanziare il nostro obiettivo è finanziare progetti di crescita cosa vuol dire progetti che generano dei circoli virtuosi a livello economico sia locale che aziendale nelle PMI ok il nostro focus sono le PMI locali quindi in Italia le PMI italiane con dei progetti di crescita quindi non finanziamo flusso di cassa quindi l'azienda che va un po' così perché il flusso di cassa ha bisogno del working capital noi non finanziamo quel tipo di operazione per quale ci sono altre soluzioni che ne so il factoring il reverse factoring diciamo ci sono altre soluzioni bancari o meno però noi non finanziamo il flusso di cassa tradizionale aziende invece che ha un progetto ok di crescita o di miglioramento industriale potrebbe essere non so un efficientamento energetico il modificare delle macchine comprare delle nuove perché migliora la produzione il finanziare l'acquisto di un altro ramo d'azienda di una società quindi progetti di crescita di questo tipo sono quelli che noi normalmente finanziamo o amiamo finanziare perché perché hanno un business plan che genera diciamo una percentuale di guadagno esempio se io modificando delle macchine riduco un 30% i costi di sviluppo della mia linea quindi ho un 30% di risparmio anche se pago l'8% ad esempio di interessi su questo progetto ha economicamente senso ok quindi faccio l'era finanziare perché mi resta il 22% di guadagno ok quindi questi sono i tipi di progetti che finanziamo abbiamo lanciato anche due progetti che noi che mi ha che sono prestiti ponte perché effettivamente sono prestiti ponte anche quelle lì a livello bullet nel senso che si paga il capitale alla fine del progetto che sono a corto termine fino a massimo un anno ok gli importi un po' più piccoli ma anche aziende con dei progetti di crescita ma che non sono poi così solide tra virgolette o non hanno tutta quella storia come le aziende che normalmente hanno un progetto di crescita che finanziamo quindi non l'ho detto però i criteri per noi sono uno un business model nelle aziende che finanziamo tradizionalmente un business model consolidato quindi che abbia almeno gli ultimi tre bilanci in positivo nessun buco gigante con le tasse o con l'erario diciamo quindi aziende diciamo che sono relativamente sane con un progetto di crescita ok i tassi di interesse vanno tra il 6 e l'8% ok sempre con il rimborso che sia o tipo bullet quindi con il capitale alla fine ma anche con rimborsi tradizionali ok in cui in base al rischio di investimento il settore l'azienda come c'è i numeri si può abbassare un pochino adesso molte aziende possono andare in banca e ottenere finanziamenti anche al 4 o il 5% noi non vogliamo sostituirci alle banche siamo un canale complementario ok azienda che la banca non riesce a finanziare perché purtroppo non può cioè non è che è cattiva la banca allora nelle finanze ma non può perché ci sono normative come IFRS 9 IFRS 9 è uno standard contabile che dice che se tu banca presti dei soldi ad una società che rientri con determinate caratteristiche devi accantonare tutto l'importo del prestito come se fosse una perdita come se il tipo non te la pagherà mai l'azienda non te la pagherà mai allora abbiamo aziende che rientrano in questa categoria che però esistono da 50 anni ok che hanno gli ultimi 10 bilanci in positivo che hanno superato tutte le crisi possibili immaginabili superano anche le prossime probabilmente ma che danno lavoro magari a centinaia di persone che vanno in banca richiedono dei soldi per un progetto di crescita e non riescono a farsi finanziare perché perché poi la banca richiede garanzie personali se ha garanzie personali quindi dell'imprenditore può finanziare questi crediti sempre in base all'IFRS 9 ok queste sono tecnicalità purtroppo che esistono nel mondo della finanza tradizionale noi entriamo a essere un'alternativa per queste aziende che hanno dei fabbisogni industriali per crescere e non riescono a finanziarsi con le banche i tassi sono tra il 6 e l'8 per questi tipi di progetti per i progetti tipo prestito ponte che vengono fatti per start up con delle garanzie qui la differenza che short term garanzie i tassi sono anche del 9% ok ad oggi ne abbiamo due online di progetti al 9% che sono garantiti uno da un aumento di capitale da letter of interest degli investitori che dicono guarda noi entro alla fine dell'anno 2020 faremo un aumento di capitale di 400.000 euro quindi i 40.000 euro che richiede l'azienda sono garantiti da questo aumento di capitale l'altra azienda invece ha vinto un bando europeo e riceverà 100.000 euro tra 5-6 mesi ok ha richiesto questo prestito per poter diciamo andare avanti il tasso è interessante il 9% interessi mensili capitale alla fine ok va bene e proseguo leggendo la chat allora e grazie Diego per la risposta fare dal sostituto d'imposta semplificherebbe ulteriormente la cosa per noi neofiti vi seguo grandi ha detto che appena riescono appena ce la facciamo mandiamo un mail a tutti Luca Graziano chiede di quali cripto danno interessi per quanto tempo grazie allora sì allora noi oggi con le cripto non lavoriamo direttamente con le cripto quello che facciamo è prendere il prestito lo tokenziamo quindi lo facciamo a pezzettini ok i tokens lo mettiamo sulla blockchain di ethereum ok distribuiamo questi token agli investitori che possono fare due cose mettersele sul loro wallet personale ok c'è qua il mio il mio trezzo ad esempio o lo possono ottenere nel wallet di criptalia ok quello è quello che faremo a fase 1 fase 2 è l'apertura del mercato secondario che non è né più né meno che un mercato secondario classico di prodotti di debito ok quindi questi token li potremmo scambiare con altri prestiti se ci piacciono di più o con vendere o comprare se ci interessa se i prezzi vanno su o giù ok in teoria essendo bonda il range di movimento potrebbe essere cioè la differenza di Yelda potrebbe aumentare di più di quella che si vede normalmente su questi mercati di prestiti soprattutto e la frase 3 se il regolatore ci lascia lavorare come abbiamo sempre voluto lavorare è per mettere anche il pagamento in cripto di questi prestiti ok è qualcosa che noi abbiamo detto dal giorno 1 che volevamo fare e loro diciamo fanno fatica un po' a validare perché? perché hanno paura del cripto per un milione di motivi non le capiscono è troppo trasparente non lo so hanno paura che sia solo usato per fare money laundering eccetera 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 quindi diciamo quello è lo scoglio diciamo che c'è l'idea con cui noi siamo nati nel 2017 era proprio quella di essere prima di tutto un exchange di cripto che però tokenizzava prodotti finanziari è quello diciamo come siamo nati come siamo nati noi il primo prodotto che lanciamo nella tokenizzazione è proprio quello del crowdlending o crowdinvesting su progetti tipo bond sulla piattaforma ok proseguo leggendo nella chat Wosterk 1 Rothschild controllano il mondo i Rothschild hai delle ma guarda io ho conosciuto un Rothschild in Cile ok della famiglia Rothschild proprio non controllava più di tanto lui sinceramente era molto simpatico aveva i Rothschild hanno anche tantissimi vigneti in Francia in Cile avevano dei vigneti lui ci dedicava al vino evidentemente noi scherzavamo che non aveva aveva la tranquillità spirituale dicevamo noi era un tipo che si alzava al mattino non diceva cavolo devo andare a lavorare se no non arriva a fine mese diciamo quello secondo me non l'ha mai sentita quella pressione però a parte quello era un tipo anche simpatico il vino era buonissimo però non è che poi evidentemente sì qual è il film molto bello è Wall Street 2 in cui si vedono tutti questi gruppi penso che sia Wall Street 2 o l'1 no l'1 no è il 2 mi sembra Simone ciao a tutti volevo sapere che analisi fa Cryptalia prima di portare i progetti sul suo marketplace ripeti un secondo sì sì no allora noi facciamo un bel analisi ai bilanci ok di solito per portare un'azienda sul marketplace analizziamo almeno 150 quindi siamo molto selettivi prima di tutto perché anche noi investiamo su queste aziende ok io ho investito su tutte le aziende che sono state pubblicate lì non vuol dire che i progetti sono sanissimi perché ci ho investito io no no io ho preso delle bellissime fregature in vita mia quindi non è che sono l'unico criterio che esiste no però analizziamo i bilanci degli ultimi tre anni e soprattutto facciamo un'analisi del business plan del progetto che devono fare esempio se devono mettere i pannelli solari se non ci hanno dato un bilancio previo delle potenze che generano anche se noi non siamo esperti nel ramo energetico non è che lo facciamo però analizziamo i numeri quindi chiediamo all'azienda che ha fatto il progetto quali sono i numeri per dimostrare che per dimostrare che che questi diciamo che il progetto che il progetto c'è ok che il progetto veramente rende quella percentuale che permette poi all'azienda vai di pagare interesse interruzioni interruzioni esatti ragazzi dai cercalo e io la mamma portalo via per il momento intanto la chat sì no allora quindi uno il bilanci visure facciamo una due diligence sul progetto una due diligence sociale anche sui sui founders della società sulle amministrazioni quindi c'è il bello di essere regolamentati ma a parte il bello è che ti danno diciamo una guida diciamo su quello che devi fare quindi la regolamentazione spagnola sul crowdlending ti obbliga a fare una due diligence legale che non facciamo noi la fa uno studio legale ok che ci costa 200-300 euro ogni azienda quindi se ci dicono guarda questa azienda ha avuto dei default nel passato non è che la scartiamo subito ma andiamo a capire perché ha avuto dei default nel passato se vediamo che l'azienda ha in bilancio dei debiti molto grossi con delle difficoltà andiamo a vedere perché quindi ci facciamo un bel po' di domande se non capiamo bene il progetto che ne so una roba che sembra fantascienza peggio di Star Trek e gli dici o me lo spieghi bene o non ti finanzi capito ok allora proseguiamo non mi ricordo se l'avevo letto ci parla un po' più profondo sì ok Simone Conti ciao ragazzi io vorrei capire meglio come Cryptalia sfrutta la blockchain per notarizzare i contratti l'ha detto già nella risposta c'è la risposta notarizzato ogni movimento di di flusso dinerario è notarizzato sulla blockchain pubblica di Ethereum quindi se immaginiamo che facciamo un token one to one 100 euro sono 100 token quindi io investo 100 euro su un progetto io vedrò che ci sono 100 che sono che corrispondono al mio indirizzo Ethereum ci sono 100 token che sono passati dall'azienda a me ok facciamo un esempio progetto che richiedono 40.000 euro e il minimo sono 25.000 arriva 25.000 decidi ok con 25.000 il progetto lo porto avanti gli altri token li bruciano ok quindi vengono eliminati questo io lo vedo in blockchain e poi vedo vedo anche come sono distribuiti questi token ok l'indirizzo noi lo pubblichiamo sulla nostra sulla pagina del progetto e da lì posso fare un seguito poi se io volessi vendere a qualcuno il mio investimento lo posso fare direttamente ok o attraverso la piattaforma stessa noi richiediamo l'unica cosa che richiediamo è che per legge che il proprietario dell'indirizzo su cui vengono mandati i token deve essere registrato sulla nostra piattaforma ok è l'unica cosa che richiediamo perché perché dobbiamo sapere chi ce l'ha per la normativa antiriciclaggio la quinta normativa antiriciclaggio riduce a 150 euro l'importo massimo mensile che può essere diciamo fatto circolare in modo anonimo ok quindi una transazione ecco quindi se facciamo dei trasferimenti di cripto oltre i 150 euro in teoria non è compliant con la quinta normativa internazionale antiriciclaggio che è la quinta direttiva AML AML quinta direttiva ok domanda cattiva di Fabio perché parla del 26% di trattenute quando nell'interpello Ener2Crowd a cui ha fatto riferimento prima l'agenzia delle entrate ritiene che gli interessi debbano essere tassati ad aliquota marginale guarda ok non lo so perché perché Ener2Crowd hanno fatto un trattamento e gli altri fanno un altro secondo me lì io non sono commercialista quindi queste cose non le so faccio fatica anch'io a capirlo cioè se Fabio se hai una risposta ti prego facci sapere dici cosa ne pensi tu io sinceramente non so più cosa pensare ok perché io ero convintissimo di fare da sostituto in posta poi dal nostro commercialista ho detto occhio come si fa abbiamo controllato gli avvocati stiamo vedendo e da più purtroppo è stato quando è stato come abbiamo cominciato a guardarlo da metà gennaio poi c'è stato tutta questa emergenza e quindi un po' rallentato tutto però sì diciamo che dai documenti in cui mi sono informato anch'io diciamo che in Italia le piattaforme di peer-to-peer lending legate alla Consob e autorizzate hanno una ritenuta del 26% esatto è quella che si vede ovunque ma anche per gli italiani stranieri nel senso che non solo non solo le prestiamoci di turno allora io non l'ho detto ma lo dico oggi siamo cioè noi come società siamo partecipati da Digital Magics lo dice nel sito Digital Magics è tra le altre cose anche uno dei soci di prestiamoci ok quindi la persona di Digital Magics socio nostro che è stato presidente o non so se non è ancora vicepresidente di P2Pay che è l'istituto di moneta elettronica no l'istituto di pagamento di prestiamoci diciamo lo sentiamo spesso ed è una persona diciamo che ci sta aiutando moltissimo anche per capire questa cosa cioè non è che ce la stiamo tirando fuori da stiamo lavorando con gente seria e professionale che purtroppo non è chiarissimo se la legge ti dice guarda se ero sul semaforo ti fermi va bene rosso mi fermo non possiamo neanche dire quando il semaforo se il semaforo lo vedo dico che è verde però è rosso dire che qualcosa è verde quando è rosso non lo fa diventare verde questo lo dice sempre mio carissimo amico avvocato vuoi dire quello che vuoi ma se non è vero non è vero ok dire una cosa è così ma quando non lo è non la fa diventare così quindi stiamo cercando di capirlo tra le altre cose dove noi abbiamo l'ufficio c'è una persona che è molto molto brava scrive il libro che qualcuno commercialista probabilmente lo conosce che è quello proprio sulla tassazione dell'azienda in Italia adesso non mi ricordo come si chiama lui Armando Schiavone scrive questo libro qua quindi anche lui non è che ha la chiarezza assoluta su queste cose ed è una persona che vive tutto il giorno parlando di tasse non fidatevi di me se io vi dico ah sì chiaro chiaro il 12% non fatelo assolutamente no ok proseguiamo rimane l'incertezza su questo argomento Mirni chiari da sole anche a te Luca Graziano grazie per la risposta prego Isa ciao ciao Isa oltre alla descrizione delle aziende presente sul vostro sito si può prendere visione di documentazioni ufficiali ad esempio visura bilancio allora noi abbiamo preso la decisione di non farlo pubblico questo dato ok perché non è richiesto a livello regolamentare se ce lo volete richiedere senza dubbio sono documenti pubblici quindi la visura i bilanci tutto quello che è pubblico ve lo possiamo fare avere metterli by default è qualcosa che abbiamo visto che molti dei nostri nel nostro mercato non è fatto se pensiamo che nei fondi di investimento è qualcosa che non vedi il contenuto del fondo abbiamo deciso di non metterlo pubblico se ce lo richiedete ve lo diamo avevo visto anche il segreto non è un segreto no no non sono felice se volete i bilanci vediamo se chiedete in chat lo facciamo settimana prossima faremo un aperitivo virtuale con i founders di uno dei progetti che sono adesso in piattaforma che è Plus Biomedicals ok che è una bellissima startup che fanno prodotti per per anziani disabili persone allettate quindi hanno un bel progetto tra le mani quindi abbiamo deciso di fare anche un webinar con loro perché spiegassero un po' cosa stanno facendo qual è il loro progetto e come utilizzeranno i fondi se volete le visure i bilanci evidentemente ve le facciamo avere ok per ora non le mettiamo pubbliche molto diverso l'investimento che c'è con un portale di crowd funding equity in cui uno sta investendo su una società quindi il rischio è molto molto ma molto più grande rispetto al al rischio di investire in un prestito il rischio di default di una startup spero tutti una su tre non arriva a tre anni ok quindi è il 30% io metto 1000 euro in una startup ho il 30% di possibilità di non rivedere mai più quei soldi lì ok noi ci siamo ormai da aspetta 20 anche noi da tre anni quindi diciamo stiamo andando avanti bene se qualcuno volesse la visura di Cryptale me la chiede in chat ve la mando via mail nel senso che qualcuno l'aveva chiesto nel canale Telegram tu mi sembra che l'avranno richiesta se non la vuole io la mando volentieri senza andare a comprarla al registro imprese che costi due euro e mezzo però la mando anch'io non costa niente quando erano meglio ok proseguiamo Giorgio ad oggi la blockchain è solo una mossa di marketing allora no non è solo una mossa di marketing io ho cominciato a lavorare ho conosciuto il bitcoin nel 2012 quando è nata la mia prima figlia me l'ha fatta conoscere un collega argentino io vivevo in Cile all'epoca collega argentino nell'epoca l'argentina aveva già imposto delle restrizioni sul cambiare e quindi adesso ho già messo anche peggio nel 2014 ho fatto default l'argentina su alcuni bond che aveva emesso quindi era molto difficile per gli argentini scambiare i loro pesos per i dollari se pensiamo che il pesos ha avuto una svalutazione attorno al 30% ogni anno negli ultimi anni si capisce anche perché gli argentini hanno cominciato ad utilizzare il bitcoin già dal 2012 2014 ho cominciato a lavorare su blockchain per clienti corporativi tra cui anche una delle prime dieci banche del mondo abbiamo realizzato un bellissimo progetto che oggi è live questo stesso banco ha emesso un bond qualche mese fa quindi deve essere stato a dicembre su ethereum di 20 milioni di euro ok se cercate banco spagnolo che ha fatto una transazione da 20 milioni di euro su ethereum saprete che banca io avevo firmato un NDA quindi non posso dire chi è però è facile da capire che banca è ok non è una mossa di marketing io credo tantissimo nella blockchain infatti prima ho venuto qua mio figlio lui se gli dici cosa vuoi un euro o un bitcoin lui ti dice sempre un bitcoin non mi cascino però al di là delle cripto io credo fortemente nel potere della decentralizzazione e soprattutto dell'utilizzo della blockchain per tutto quello che è la creazione di un sistema finanziario più giusto e più trasparente anche per gli investitori anche dalla mia esperienza personale cioè io quando cercavo di investire in determinati prodotti finanziari non ce la facevo perché non era parte di quel club del investitore istituzionale ok anche perché per esserlo devi avere 100 mila euro da investire su un solo prodotto cioè non è prima averli 100 mila euro secondo averli da investire tutto su quel solo prodotto quindi a livello anche di rischio è qualcosa che aumenta abbiamo deciso di seguire un iter autorizzativo regolamentato full quindi non di partire la società esiste dal febbraio 2018 potevamo partire con la prima versione del software a settembre 2018 abbiamo deciso di non aprire quindi di continuare a pagare i dipendenti continuare a sviluppare il software continuare a pagare gli avvocati per essere autorizzati per fare un lavoro come dia comanda ok quindi questa è stata l'idea poi sembra una mossa di marketing non lo è io su blockchain ci credo tantissimo è infatti la prima cosa che ho fatto quando sono rientrato in Italia nel 2017 e per riprendere un po' i contatti anche fare un po' di networking conoscere chi c'era è stato aprire un meetup qua a Bergamo su criptovalute e blockchain ok quindi è stato il primo che io oggi sappia è l'unico meetup che c'è su criptovalute e blockchain qua a Bergamo e anche a Brescia non dimentichiamo che c'è anche Brescia qua vicino e e niente ok poco a poco metteremo diciamo tutto quello che abbiamo sviluppato che stiamo sviluppando a disposizione di tutti ok proseguo anche c'è un percorso c'è un percorso in atto non è solamente una mossa di matri sì sì allora Simone chiede anzi dice se vi serve un esperto del ramo energetico ci sono io ok mandami una mail trovi i contatti in criptalia e Giorgio Bellini chiede puoi farci esempi concreti dei progetti che avete come utilizzeranno le aziende i soldi e che rischio c'è è già stata prima questa domanda sì sì faccio rapida allora il progetto abbiamo due prestiti ponte oggi in piattaforma e un prestito tradizionale quindi con rimborso alla francese ok quindi rimborso quota e capitale mese a mese la stessa rata sempre quest'ultimo progetto è un progetto di efficientamento energetico ok quindi installazione di pannelli sia per il riscaldamento che per la generazione elettrica genera altissime economie diciamo di risparmio abbiamo analizzato due preventivi e stanno lavorando anche con una terza azienda che li potrà ottenere anche dei crediti termici che adesso non sono molto esperto ma insomma il progetto viene pagato quasi a metà dai crediti termici che ricevono ok Simone se vuoi fare un commento e spiegare cosa sono i crediti termici magari la gente li capisce io non ho non sono esperto di quello lì quindi non ne so molto bene però è un progetto diciamo che analizzando i numeri c'è quindi è ricordiamo una palestra piscina quindi piscina scaldare l'acqua la palestra la luce eccetera è molto secondo progetto online si chiama rosso 21 una start up innovativa prestito ponte sei mesi 9% 30.000 euro richiesto una start up che produce pannelli prefabbricati hanno vinto un bando che si chiama porfesra della comunità europea riceveranno 100.000 euro entro sei mesi prima dei sei mesi ok e quindi ripagheranno diciamo questo credito adesso utilizzeranno questi 30.000 euro per andare avanti con le innovazioni che stanno facendo ad oggi hanno progetti un po' in tutto il mondo sono dei pannelli molto sottili se vedete nel sito anche loro sono cose molto carine quindi tu in una giornata vuoi mettere questo parete come se fosse mattone a faccia vista probabilmente anche un inutile come me nonostante io sia bergamasco non so mettere un mattone sopra l'altro riuscirei anche a montarli questi pannelli magari sarebbe più bello il muro e il terzo progetto è quello di Plus Biomedicals è lunedì prossimo faremo l'appetitivo con loro ci saranno loro spiegheranno il loro progetto io ho conosciuto i due founders di Plus Biomedicals insieme a Matteo Rossi che è collegato col nostro head of marketing quindi il responsabile marketing a New York abbiamo vinto anche noi come Cryptalia e loro come Plus Biomedicals il bando del Global Startup Program pagato dal MISE e dall'Italian Trade Agency quindi l'agenzia italiana per l'export loro fanno dei prodotti biomedicali per persone anziane o allettate quindi che sono obbligate a rimanere a letto o in carrozzina quindi disabili hanno cominciato da un prodotto che è per la cura dei capelli quindi un sistema che si attacca alle carrozzine per lavare i capelli un cuscino per mettere alla persona che sono a letto per lavare i capelli quindi la cura della persona stanno sviluppando dei nuovi progetti sull'igiene dentale per il trattamento di alcune patologie intestinali e hanno anche molti altri progetti sono due ragazzi giovani che non arrivano a 30 anni quindi hanno 26-27 anni con una capacità io l'ho visto mi danno un'invidia pazzesca una bella testa anche di di sviluppo sono degli ingegneri hanno questo bel progetto la garanzia nel loro caso è rappresentata da le letter of intent quindi le lettere di intenti degli investitori che metteranno 400.000 euro nella società come capitale però vogliono andare avanti vogliono lanciare un progetto di crowdfunding su una piattaforma internazionale quindi donation crowdfunding dove compri un prodotto che è per persone con determinate patologie per pulire i denti lavare i denti quindi mordono questo dispositivo e diciamo fa un trattamento di lavaggio dentale per persone diciamo che hanno delle grandi difficoltà è un bel progetto che che fa del bene alla società perché tutti diventeremo vecchi speriamo speriamo che non tutti di diventare disabili ok però è qualcosa che con l'invecchiamento di una popolazione è sempre più diciamo necessario e in più è una start up diciamo fatta da gente che la vedi che sono bravi non ci può cosa fare ci può cosa dire ok proseguiamo sono i tre progetti che ci sono vediamo il prossimo Dario Z la famiglia Rothschild le famiglie Rothschild non si sono mai mangiati i soldi al casino con le donine allegre alcol e gioco d'azzardo chi dovrebbe stare in cima al mondo ma guarda donine allegre neanch'io casino meno quindi sono d'accordo vino i soldi nel vino li spendo a me piace il vino certo non andare ubriaco in giro tutte le sere però un bel bicchielone mio cavolo proseguiamo Gabriel più sono alti i tassi di interesse che offrite più l'investimento è rischioso o le due cose non sono correlate allora è una bella domanda evidentemente uno a primo acchito dice cavolo un investimento al 9% è alto rischio sì è alto rischio perché perché allora chi finanzia una start-up che esiste da un anno ok con nessuna banca ti finanzia una start-up che ha meno da un anno quindi la via il cammino standard per finanziare una start-up è quella dell'equity però l'equity dal punto di vista dell'imprenditore ha un costo infinito ok perché se io sto cominciando un bellissimo powerpoint per fare che ne so Glovo conoscete Glovo Glovo ad esempio Glovo loro quando hanno avuto l'idea avevano già la prima app fatta sono andati a fare un equity crowdfunding hanno dato via il 15% quasi il 20% della società nessun ricordo il 15% per 200.000 euro ok oggi un unicornio cosa vuol dire unicornio che ha una valutazione superiore al miliardo di euro ok quindi quel 20% sono 200 milioni di euro quindi il costo di avere 200.000 euro in quell'epoca è stato enorme ok quindi dal punto di vista dell'imprenditore evidentemente dal punto di vista dell'investitore invece evidentemente se io vedo un interesse a qualcuno di cui non mi fido glielo tiro su ci sono dei limiti in Europa sui tassi di interesse che si possono fare sul debito perché se no diventa usura ok è quello ci sta che ci siano questi limiti però in un progetto di entità non finanziabili a corto termine è anche giusto che l'interesse sia più alto ok nei bond l'interesse da sempre è stato più alto ma non per il rischio più elevato ma proprio per la modalità in cui vengono investiti questi soldi e anche come vengono resi io pago solo la cedola ok non pago diciamo il capitale mentre va avanti quindi anche lì l'effetto dell'interesse composto è da calcolare in un modo diverso ok non è che posso reinvestire a metà cammino se è un prestito che dura quattro anni dopo due anni non è che ne posso reinvestire la metà sto investendo solo gli interessi che mi ha dato quindi non sempre è vincolato così quindi ci sono dei prestiti al 9% che potrebbero avere eventualmente dei rischi inferiori di quelli che sono fatti al 6,5 ok bisogna guardare altri parametri però di solito sì la norma se lo guardiamo nei bond un triple A non paga più del 2 3 4% una doppia A se andiamo su un bond C vediamo che stanno pagando anche loro il 6 il 7 l'8 ok quindi ci allineiamo ai rendimenti che ho fatti eh sì allora leggiamo invece la chat telegram rimane sul canale della diretta sì questa diretta la manterò sul mio canale quindi potete recuperarla quando volete e ancora chiedono tassazioni sul peer-to-peer per Mintos e state guru e state guru diciamo parola di tassazione estera e non è oggetto di questa live perciò per adesso schifiamo la domanda ok Guido non vedi i progetti sul sito bisogna registrarsi su Cryptalia per vederli sì dobbiamo mettere un bottone che ti mandi lì o puoi mettere barra marketplace scusate manca il bottone perché stiamo sviluppando la forma di farlo vedere in un modo un po' più carino se ti registri li vedi se no se vai su barra marketplace li vedi lo stesso ok ok e comunque vi consiglio di iscrivervi alla piattaforma utilizzando il link che vi lascio in descrizione ed è lo potete trovare oppure in descrizione al video ok Alessandro che tipo B immagino che sia blockchain che tipo di blockchain usate quale algoritmo E governance della blockchain ethereum ad oggi se non mi sbaglio è ancora proof of work cambierà proof of stake quando si decide gli stakers diciamo di ethereum ethereum pubblica quindi ci saranno gli indirizzi fai clic lì eccetera se volete vedere degli smart contract che abbiamo fatto cercate cryptalia su etherscan ad esempio ci sono un paio di smart contract che si possono vedere di un paio di anni fa che abbiamo usato in quello che commentavo prima che sono dei nei meetup che facciamo anche degli esempi come funzionavano gli smart contract per far passare valore tra le persone quindi ci sono un paio di smart contract anche li pubblicati se volete vederli sono su ethereum tutto pubblico trasparente ok proseguiamo Giorgio Paolo prova a blastare Diego blastami no non provo a blastarlo ma provo a chiedergli no due cose due cose sul sul finanziamento dei progetti innanzitutto se voi dedicate il 100% delle quote che proponete nel marketplace agli investitori o se tenete per voi una vostra quota e due se avete previsto la costituzione di un fondo di garanzia in qualche modo o se preferite fare tutto all'altro investitore ok belle domande allora io personalmente insieme ad altri soci stiamo aprendo un fondo di investimento regolamentato stiamo valutando se quotato o meno quindi se pubblicato in una borsa o meno che è un fondo di direct lending un fondo di direct lending quindi che presta soldi alle società il fondo avrà una dotazione iniziale di 20 milioni di euro quindi il nostro fondo presterà direttamente alle aziende che noi pubblichiamo in piattaforma ok ad oggi stiamo facendo questi investimenti soci direttamente sui progetti in piattaforma ok quindi questo noi vogliamo e abbiamo sempre avuto l'intenzione di essere i primi a finanziare e a prestare i soldi alle alle aziende che pubblichiamo sul portale anche per evitare quello che viene percepito come un conflitto di interesse nel senso che noi gli investitori non chiediamo niente ci facciamo pagare le fee solo dalle aziende che finanziamo quindi quante più aziende pubblichiamo più soldi incassiamo ok evidentemente è un conflitto perché se l'azienda fa schifo io la pubblico la fatturo lo stesso invece in questo caso io sono il primo che investo quindi non pubblico aziende che fanno schifo ok tanto per dirla così corta è molto molto semplice quindi c'è questa c'è questa l'azienda è già stata costituita il fondo si sta costituendo ad oggi abbiamo già i documenti dobbiamo andare dal notaio in Lussemburgo evidentemente i documenti mi sono arrivati due settimane fa e in Lussemburgo non ci si può andare però va bene riusciremo diciamo ad andare avanti anche con il fondo l'altra domanda era scusa Paolo del fondo di garanzia fondo di garanzia allora per accedere all'MCC ci sono delle complessità che il meccanismo fino a qualche mese fa era molto complesso in teoria il decreto crescita 2019 se non mi sbaglio maggio indicava che i portali di crowdlending potessero direttamente accedere al fondo MCC quindi al fondo di garanzia che copre fino all'80% degli investimenti fino a in determinate categorie di aziende parlandone con l'MCC e anche con altre entità non sanno da che parte cominciare a trattare con le piattaforme ok di fatti ad oggi eccezione fatta per October nessuna azienda riesce come le nostre diciamo riesce ad accedere a questi benefici almeno fino ad ora come lo fa October October lo fa attraverso uno dei loro fondi che hanno con dei confidi che riceve la garanzia del 80% su quello che investe il fondo ok il fondo però ha deciso di dare la metà diciamo di questo anche agli investitori non non istituzionali esempio ci sono 10 investitori che hanno messo la metà del prestito e c'è il fondo che ha messo l'altra metà ok la garanzia è del 80% che in teoria la prende solo il fondo però loro hanno detto io il 40% lo do anche agli altri investitori questo è il meccanismo che ha messo in pratica October ok con MCC noi stiamo cercando di fare entrambe le cose quindi una andare direttamente sull'MCC e sono due cammini paralleli una andare direttamente sull'MCC perché diano la garanzia direttamente alle aziende e non al fondo poi abbiamo sempre il cammino alternativa di dare la garanzia al fondo che è quello diciamo che investirà almeno il 50% o il 60% su ogni progetto che pubblichiamo ok grazie allora domanda Zoom su Rosso21 c'è scritto data di chiusura per vista 11 aprile 2020 ma la durata è di 6 mesi quindi cosa succede se investo oggi allora in realtà investi alla data di chiusura quindi l'investimento comincia a contare dall'11 aprile ok nel momento in cui il progetto viene chiuso tu puoi investire oggi metti i soldi il progetto non parte fino a che il progetto non parte puoi cancellare l'investimento ritirarli a fare un bonifico a modificare l'investimento ok quindi c'è questa data questa finestra di date che per il periodo purtroppo si stanno allungando un po' però diciamo si devono accorciare sempre di più questi tempi che sarebbe l'ideale così il progetto viene pubblicato in due settimane massimo viene finanziato e parte perché sennò questi giorni effettivamente sono giorni persi nel senso che si sono di attesa sono di attesa di raccolta fondi si si in ogni modo il conto non è un conto nostro quello di Cryptalia ok il conto è dell'utente nel senso che è come avere i soldi sul conto corrente un altro invece di avere su questa tasca c'erano questi ok però alla fine il conto è nominativo ed è per quello che ci piaceva di più lavorare con un istituto di moneta elettronica piuttosto che un istituto di pagamento ok perché il conto fosse a nome della persona sì proseguiamo con le domande e allora ok Gabriel come vedete in Cryptalia l'investimento in green economy ma allora il green economy il green bond è il futuro perché io ho tre bambini ok hanno tre cinque sette anni se non facciamo la green economy per loro saremo degli egoisti schifosi quindi bisogna cercare di investire tutto quello che si può nella green economy nel senso che ok noi abbiamo lo scherzo in ufficio e se prendiamo il caffè nel bicchierino di plastica diciamo no Greta non approva facciamo il caffè nella tazzina che poi la abbiamo la cagata pazzesca però l'economy non deve essere solo una moda ok deve essere qualcosa che che ci deve essere perché alla fine tutti viviamo qua su questa è l'unico pianeta che abbiamo ok altra domanda ha senso dire che il peer-to-peer lending fatto con la vostra piattaforma è scollegato scorrelato dal mercato azionario mondiale assolutamente sì anche perché le aziende che noi stiamo finanziando con il mercato borsatile mondiale non c'hanno niente a che vedere sono due investimenti sono due investimenti assolutamente correlati sì sì la ratio di Sharpe ma anche la correlazione sono assolutamente scollegati è il bello ma non solo la nostra piattaforma è il proprio il settore il tipo di investimento non è un settore scusate è il tipo di investimento che è quello dei progetti di crescita è assolutamente scollegato dagli andamenti borsatili ma anche dei bond molti bond ad oggi scendono ma perché la gente purtroppo tantissime persone fanno investimenti con la pancia e quindi quando vedono che il mercato scende cosa fanno vendono ok o tanta gente io l'ho visto negli ultimi mesi cavolo siamo arrivati dai livelli di liquidità i titoli sono saliti tutti molto nel momento in cui vedi un po' di movimento cosa fai vendi adesso ho fatto anch'io l'ho fatto anch'io al principio della crisi era metà metà febbraio 20 febbraio ho cominciato a vendere ma non perché avessi paura avessi bisogno di liquidità appena è sceso un po' ho ricomprato ho capito ho già riportato a casa un bel guadagno solo facendo tra quattro operazioni infatti un amico mi scriveva mentre mentre la borsa andava giù mi sa che te ti stai divertendo come un pazzo a comprare cavolo si stanno andando le cose stanno andando molto meglio a te che a me si vede la competenza poi paga e l'incompetenza invece paga al contrario ma guarda ho preso di quelle cantonate anch'io non so se vi ricordate di investire sulle materie prime io nel 2000 ho perso tutto sulle materie prima poi quando ho visto le opzioni binarie era una roba fantastica ho perso tutto le opzioni binarie cioè tutto no diciamo quello che investivo sulle opzioni binarie differenziare è la cosa fondamentale quindi differenziare bene è difficilissimo però diciamo bisogna differenziare bisogna differenziare anche in asset difficili o in cripto io non ho paura a dirlo io ai miei bambini risparmio in azioni in cripto ho anche dei bond corporativi che ho comprato bene adesso ne sto comprando degli altri che sono scesi in un motto sto guardando moody ce n'era uno che sta dubitando se trasferirlo farlo diventare un bond default mandarlo in default però l'azienda non va in default fino a fine febbraio pagava 98 quindi per ogni 100 euro tu potevi comprare 100 euro di debito di questo bond a 98 euro adesso in vendita 58 ok quindi tu metti purtroppo un bond corporativo devi avere minimo 58 mila euro per comprare 100 mila euro di debito ok però ci sto pensando perché cavolo poi ritorna 90 nel 2023 chiude questo bond nel senso devono ripagare il capitale un'azienda molto grande tedesca fallirà c'è sempre il rischio ok la cedola che paga del 6 è qualcosa però se io compro 100 euro e mi costano solo 58 nel 2023 per ogni per 100 euro di debito mi daranno 100 euro c'ho già guadagnato mi spiego cioè 42 euro da qua alla fine ok che è il famoso YTM gli ultimatori quindi su quelle che le cose ti ha a vedere differenziare è base ok ok poi se trovi se trovi magari l'occasione quella che riteni è solo un'occasione perché non usare i tuoi fondi ok proseguiamo domande zoom Alessandro le percentuali indicate sono calcolate su base annua sì sempre la percentuale TAI ok quindi 9% ad esempio 9 mesi l'interesse lordo sarà il 6 75% 9% su 6 mesi sarà il 4 5 e l'altro l'8% invece l'8% calcolato con il metodo francese quindi come si chiama la cedola l'importo della 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 rata è fisso ok varia diciamo scende gli interessi c'è il il simulatore di investimento quindi abbiamo messo in ogni prodotto si schiaccia lì tu l'hai spiegato benissimo nel video schiaccia lì e dici se metti 100 euro in questo prodotto come viene ripagato e lo vedi subito come viene ripagato ti dà la cifra totale evidentemente l'orda e ti dice anche le quote più o meno come le puoi calcolare ok si è molto molto utile quello strumento cioè si vede subito quanto quanto ti verrà pagato quando esatto ok e allora Giorgio dove assede avevo letto questa domanda dove assede il fondo il fondo Lussemburgo ok ok proseguo ok quanto pensate di usare come skin in the game come partecipazione investimenti allora l'ideale è che gli istituzionali quindi non solo noi il concetto skin in the game motivato da Mintos non non è partecipazione la partecipazione che noi facciamo allora sistematicamente investiamo su tutti i progetti ok idealmente gli istituzionali devono mettere almeno la metà ok idealmente ad oggi abbiamo chiuso i primi progetti con l'istituzionali che mette il 30% ok ma perché volevamo anche noi cercare di capire come funzionava tutto tutto il giro ok però ad oggi sui tre progetti il 30% del finanziamento è dato da noi soci come finanziatori individuali ok ok più avanti contiamo di fare almeno la metà ok Giorgio domanda difficile questa potreste fare come investio con la regolamentazione che avete ma allora un secondo un secondo un secondo penso che penso che tutti sappiano la situazione di investio ma la spiego un secondo l'uno all'altro il sito è scomparso e ovviamente i soldi con il sito quindi scomparsi allora difficile ok ci potremmo provare ma non credo che ci riusciremmo perché prima di tutto i soldi non li abbiamo noi sul nostro conto ok quindi li gestisce il nostro amico Mango Pay che è l'istituto di moneta elettronica che gestisce questi fondi probabilmente se da un giorno all'altro le aziende a cui noi prestiamo i soldi il KYC non lo facciamo solo noi lo fa anche Mango Pay quindi quindi se Mango Pay dice questa azienda non esiste o non so chi è non li fa creare il conto di pagamento ok quindi già lì è difficile mettere dei progetti fake certo io potrei creare il progetto fake sulla piattaforma creare un conto falso potrei farne però in una piattaforma regolamentata giocano vale la candela ok poi noi lavoriamo sul mercato italiano siamo italiani io vivo a Bergamo quando finisce sta roba venite a Bergamo venite nel nostro ufficio venite a conoscere Bergamo è bellissima io non so come ha fatto a vivere tanti anni all'estero essendo di Bergamo ok no è bellissimo anche andare all'estero ed è bellissimo anche rientrare in Italia adesso c'è un po' di gente che diceva no l'Italia perché l'Italia no ragazzi io ho vissuto un po' ovunque ok ho vissuto in Spagna ho vissuto in America Latina in Cile in Cile in Argentina sono vissuto qualche mese anche in India in Francia ho visto un po' di mondo si vive molto bene in Italia abbiamo i nostri problemi però è il posto migliore nel mondo per far crescere dei bambini con una bella educazione con una salute che funziona che nonostante le grandissime crisi noi ci tiriamo su le mani che andiamo avanti che costruiamo un ospedale in sei giorni ok meglio che i cinesi quindi diciamo siamo un grandissimo paese un bel paese parliamo del cibo anche eh? parliamo anche del cibo volendo parliamo anche quello non ne parliamo perché serve sfondare delle porte aperte no? poi vedo la Spagna i miei genitori vivono in Spagna e apriremo anche in Spagna e purtroppo loro ma anche in altri paesi con questa crisi ad esempio stanno gestendo malissimo cioè stanno litigando tra di loro non riescono a mettersi da fuori su niente e qua quando hanno costruito l'ospedale con i soldi dei Ferragnez hanno detto eh così potrà venire anche gente dal resto del mondo dal resto d'Europa se ne hanno bisogno e la prima cosa che hanno detto in una regione spagnola è detto ah io chiudo le frontiere perché non voglio altra gente di altre comunità ragazzi cioè grazie non è non è il massimo comunque tornando all'idea perché non allora prima di tutto è difficile da fare un exit scam se sei un'entità regolamentata secondo anche perché io ci smelto cioè come socio amministratore rischio la galera ho tre bambini ragazzi no a me piace vederli ogni sera vabbè adesso li vedo tutto il giorno però quando lavoro che lavoro a Bergamo vicino a casa ci vado anche a piedi per fortuna quando torno a casa la sera cioè è qualcosa come fai a rinunciare a una roba così non ce la fai quindi anche altri amministratori di gente di piattaforme che hanno scammato avevano 3-4 bambini invece il discorso della regolamentazione è un'altra cosa è una cosa importante allora bisogna avere pisso stomaco come dicono qua in Bergamasco quello sullo stomaco io non ce l'ho quindi non ce la faccio cioè ragazzi boh difficile fare non lo so secondo me la regolamentazione è molto dura sei vigilato sei controllato è un progetto industriale abbiamo dei soci quindi non solo quello è il capitale nostro e non siamo solo noi i soci fondatori dentro ma c'è il CTO è socio della società e ci sono degli altri friends and family che sono entrati al principio che hanno messo delle quote che hanno messo i loro soldi non dimentichiamo che i soldi del capitale sociale sono soldi veri che hanno messo lì c'è Digital Magix abbiamo fatto un aumento di capitale qualche mese fa proprio a fine anno 2019 e dove sono entrati altri soci tra cui anche dei private banker di una banca molto grande qua del territorio Bergamo-Brescia non facciamo nomi e diciamo c'è gente che ha investito i loro risparmi sul lavoro che noi facciamo tecnicamente lo puoi fare sì secondo me sì però bisogna essere anche brava a fare quella roba lì io ogni tanto programmo nonostante i miei colleghi si tirino i capelli dicono no non fare niente perché mi piace ok fare qualcosina però non è il mio mestiere non è che sono un hacker capito cioè se non è che mi metto a fare poi l'hacker della finanza io faccio le cose che sono capace di fare e cerco e spero di fare il meglio possibile se non ho la bacchetta magica per molte cose però quello che si so è che lavorando duro in silenzio come bel bergamasco che mi viene ad essere facito laura fai silenzio lavora le cose poi alla fine vengono fuori secondo me è molto più valore quello che che fare in spagnolo lo chiamano il pelotazo cioè fare il business in cui diventi ricco in due anni io su quella lì non ci credo non sono ricco occhio però diciamo ho avuto fortuna di creare una società nel nel 96 in Spagna che oggi fattura oltre 40 milioni di euro l'anno che ha più di 700 dipendenti a Barcellona che parte di un gruppo internazionale che l'anno scorso ha fatturato 650 milioni di euro ho fatto già l'exit da quella società so come l'abbiamo fatta l'abbiamo fatto dormendo poco lavorando tanto dormendo meno e lavorando ancora di più e andando dai clienti e facendosi un mazzo così l'unico modo diciamo per almeno l'unico modo che io conosco cioè se poi c'è gente che diventa ricca prima di me invidia sana ragazzi ok bello bello questo questa apertura ok cosa ne pensi di Paxo non conosco quindi non conosco ok non abbiamo una risposta cos'è tu lo conosci io no Paolo no no ok fate solo sapere nei commenti che cos'è Paxo adesso lo cerco allora intanto proseguo Giorgio diteci tutti e tre un buon motivo per investire in Cryptalia e uno per non farlo parto io parto io farlo beh mi sembra che è una società regolamentata italiana ha ha un buon progetto da qui ai prossimi anni ed è secondo me ha tutte le carte in regola per poter crescere nei prossimi anni sto iniziando a conoscere le persone che partecipano al progetto e che lo hanno creato quindi io do questo questo lato positivo per non farlo non fatelo se non mi sentite di investire i vostri soldi in investimenti che sono più rischiosi della media se proprio questa è la mia risposta non era tu Diego allora per farlo il motivo principale per cui io amo investire sui progetti che pubblichiamo è perché è un circolo virtuoso ed è il momento di tornare ai circoli virtuosi nella finanza e soprattutto nell'economia nostra locale nel senso che se io investo in un progetto di un'azienda sia del paese che sia però è qua che dà lavoro a gente di qua e so che il guadagno loro lo fanno dando anche lavoro ad altra gente è un circolo virtuoso evidentemente io posso investire io investo anche nell'azionario statunitense però a parte che i soldi probabilmente a Jeff Bezos non gli arrivano i miei soldi a Jeff Bezos non servono ne abbastanza con quelli che io spendo in Amazon non con quelle delle azioni che magari compro di Jeff Bezos invece del prestiti che io finanzio di una piccola società di una PMI italiana sono soldi che rientrano nel circuito diciamo nell'economia locale ed è quello che serve serve perché per troppo tempo le banche hanno ridotto l'erogazione dei prestiti che fanno le PMI nostre già solo nei primi mesi 2019 era stato di oltre 60 miliardi di euro la riduzione dell'erogato sui prestiti alle PMI italiane dalle banche italiane se in più noi non le aiutiamo e abbiamo della liquidità e ci sono i modi per aiutare le PMI italiane perché non dovremmo farlo quindi per me il motivo numero uno al di là del rischio al di là dell'interesse è proprio perché è un investimento giusto e su aziende del territorio il motivo per non farlo è oh guardate cosa avete sono sono pur sempre progetti a rischio come le dici te Leonardo se il gioco non ne vale la candela ok dire cavolo sto mettendo mille euro però questi mille euro mi servono per fare altre cose non investirli in progetti ad alto rischio ok vai dal tuo consulente finanziario tradizionale e chiedili come tenere i tuoi risparmi un po' più tranquilli in un'ottica di differenziazione il peer to peer lending o il crowd lending non è per tutti è come non è per tutti investire nelle startup ok adesso ci sono tanti portali di equity crowdfunding arriverà al google magari prima o poi su un crowdfunding in cui ci metti 100 euro e ne porti a casa un milione ok però è molto difficile quindi non è per tutti secondo me qual è il motivo che non è sul motivo del circolo virtuoso dell'economia locale io ci credo ma muzio scevo la mente una mano sul fuoco per quello perché va fatto Paolo Paolo scusa motivo per investire in criptalia o per non farlo immagino che il terzo sia tu sicuramente sicuramente un motivo come diversificazione dell'investimento sicuramente anche in un'ottica di peer to peer lending una nuova fonte di investimento ti permette di differenziare il rischio nel tuo portafoglio di peer to peer lending in un'altra società quindi in un'ottica di diversificazione anche nell'ambito di peer to peer lending può funzionare ovviamente sempre quello che è giusto dire e come ha ricordato anche giustamente Diego teniamoci sempre in mente il fatto di investire in un stiamo investendo in un business comunque rischioso cioè ha tutte le garanzie che ha spiegato Diego tutte le coperture la regolamentazione ma comunque c'è del rischio nell'investimento in aziende quindi di investire si dice sempre la solita cosa ma investire quello che magari si può rischiare di perdere poi ovviamente diversificando e investendo piccoli pacchetti del proprio portafoglio in varie come si dice in varie anche piattaforme l'eventuale eventuale non auguro certamente a criptali la cosa ma un eventuale palimento di una di queste piattaforme inciderà poco in un portafoglio bene classificato ok Sebastiano stima sul prezzo del bitcoin fine anno 2020 inizio 2021 te la senti devi sparare no quello che vi posso dire è che adesso che è sceso io ho comprato ok quando è arrivato a quando ho visto che andava giù andava giù andava giù ho comprato ho fatto il bonifico io uso coinbase non perché sia migliore delle altre ma perché ho sempre usato coinbase da un po' di anni G-DAX prima coinbase pro oggi il fotovolifico purtroppo è arrivato il giorno dopo in cui era sceso a 3.700 però ho comprato lo stesso a 4.100 oggi non so neanche se l'ho guardato però mi sembra che era arrivato a 6.000 e qualcosa 6.400 6.575 fine anno c'è il quantitative easing infinito degli Stati Uniti c'è il quantitative easing europeo continueranno a stampare biglietti 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 andrà su io spero che almeno arrivi a fine anno a 20.000 euro almeno deve arrivare a 20.000 euro a fine anno io spero se poi non ci arriva il mio investimento è a long term ogni volta che io vedo che fa qualche salto così qualche risparmio lo metto a parte ok ricordiamo che qui non si fanno è prediferenziato ok non si fanno dei non sono consigli non sono consigli l'unico consiglio che posso dare è diversificare non mettete poi lì ognuno ha il risk appetite che lo dicono l'appetito al rischio non so se si può dire in italiano però l'appetito al risk appetite agli investimenti pericolosi a me sull'ecrito non mi dispiace investire quanto tenere in cripto rispetto al portafoglio totale non oltre il 5% beh beh sì che poi può valere per qualcuno che crede ancora più nelle cripto aumenta questo percentuale io ci credo e ho fatto da sempre i primi bitcoin li ho comprati nel 2012 poi nel 2014 molti li ho usati ho comprato una KitchenAid con dei bitcoin una KitchenAid sapete quel robot da cucina che gira oggi forse no però quando è arrivato a 20.000 euro la guardavo dicevo cazzo potresti essere una Lamborghini invece no capite se guardi il valore però chi se ne frega quello che me la vende io ero in Cile quello che me la vende ho voluto i bitcoin ho comprato i bitcoin per comprarla quindi non è che ho avuto tante scelte quindi ok allora bene Tiziano Paxo è una cripto basata sul valore dell'oro ok Paxos Paxos può essere no non lo so non lo sapevo no leggevo il commento no no chiedeva cosa ne pensi se 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 allora io l'oro non 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 sono un un grandissimo fan come bene il fuggio dell'oro ok quindi non è un tema che seguo molto ogni tanto se vedo che c'è qualche opzione interessante su qualche contratto per difference per scioltarlo o meno potrei potrei anche investire su qualcosa relazionato con l'oro non lo conosco quindi allora cripto vincolate all'oro e ne ho visti un bel po' ok ci sono un bel po' che fanno anche degli stable coins vincolate al al valore dell'oro ci sono delle cripto che invece comprano effettivamente l'oro viene tokenizzato e viene mantenuto boh non la conosco quindi non è che posso dirti molto ok proseguiamo con la prossima domanda Giorgio chiede ogni quanto pagate gli interessi allora ogni di solito è dipendente dal progetto per adesso tutti e tre i progetti che abbiamo sono mensili quindi pagheranno gli interessi mensilmente il progetto di ASD Villa Cavotti Nuoto che è il loan quindi il prestito paga interesse capitale gli altri pagano solo interessi quindi solo la cedola e al termine pagano tutto il capitale ok ho soltato una domanda conoscete YouShare e cosa ne pensate conosci? no ok io no io no Paolo? no no ok ok niente allora in chat non ci sono più domande in Telegram non c'è una domanda voi comunque provvedete sempre comunque ai rimborsi Bullet non sempre no no difatti ok allora noi abbiamo fatto uno dei soci si chiama econometria anche in italiano lui è econometrista quindi ha fatto un bellissimo modello con un software quindi quelli che conoscono il software magari lo conoscono che si chiama Crystal Ball quindi no le Crystal Ball che ti ricorda alla mia età si ricorda delle Crystal Ball che sono quelle che fanno le palline no no è proprio la balla di cristallo di Oracle quindi ha fatto un bel modello econometrico su un ratio ideale del sia tasso di interesse tasso di default che noi abbiamo messo anche dentro diciamo come previsto perché qualcuno ce ne sarà evidentemente non è una cosa che non ci può scappare e modalità di rimborso abbiamo visto che se il 35% dei prestiti che facciamo sono a rimborso capitale più interessi quindi tradizionale per merito del reinvestimento si riesce ad ottenere un valore di portafoglio maggiore ok quindi Crystal Ball cosa fa? fa tante simulazioni sono statistiche matematiche quindi sono la maggior parte sono simulazioni se non mi sbaglio si chiamano a cascata o Monte Carlo quindi sono degli studi così per calcolarti qual è un po' l'allocazione di portafogli migliori su questi su questi prodotti quindi su 10.000 iterazioni che abbiamo fatto sul formato del del fondo abbiamo visto che il 35% rimborso amortizing diciamo dava un rendimento di portafoglio superiore rispetto a un 100% o un 50-50 quindi più o meno ci stiamo basando su quello poi non è scritto nella legge che dobbiamo farlo così per forza però diciamo è una bella guida che ci stiamo su cui ci stiamo basando ok ok allora vediamo c'è una nuova domanda di Raffa è cambiata la normativa di tassazione dei dividendi esteri attenzione però qui non parliamo di dividendi ok non parliamo di dividendi scusate per la prossima invitiamo anche un commercialista ok così ci risponde che non non si assume responsabilità di quello che dice ok chiedo io una cosa come vi vedete da 4 anni classica domanda da colloquio ma da quei 3 anni i progetti avete i progetti di crescita a parte abbiamo detto bene il fondo di veranzia abbiamo detto se riuscite a entrare anche nella parte cripto abbiamo detto altre cose però il livello di crescita dell'azienda in sé aumentare dei progetti oppure tenere un livello contenuto con un po' più magari di analisi eccetera personale cosa ci vuoi dire allora noi il piano a 3 anni è molto ambizioso nel senso che vogliamo aprire in anzitutto già partiamo con due mercati allo stesso tempo in Italia e Spagna Spagna ci deve arrivare l'autorizzazione però lo faremo a Sunas Possible e quindi già un aumento una una crescita orizzontale se mi permetti quindi su più mercati ok quindi perché abbiamo scelto la Spagna evidentemente io ci ho vissuto conosco e quindi so come va ma anche perché dal punto di vista fintech è un mercato diciamo che si muove un pochino di più rispetto al mercato italiano è più agevole penso no 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 uguale c'ha le stessi limiti però sono riusciti è un mercato il fintech in generale ma anche il crowd investing è cresciuto più rapidamente rispetto al mercato italiano non so quali sono i motivi di fondo che ci sono alcuni dicono che la regolamentazione spagnola era un po' più lassa soprattutto i primi tempi l'equity crowdfunding in Italia ha distrutto tutto non c'è molta chiarezza normativa in Italia mentre in Spagna sembra che ci sia un po' più di chiarezza normativa invece no secondo me sono simili però diciamo il numero che hanno fatto di equity crowdfunding in 2019 in Italia l'hanno fatto nel 2017 in Spagna quindi diciamo hanno ed è un paese che è tre quarti i nostri abitanti quindi sono 46 47 milioni di abitanti rispetto ai 60 e il PIL è anche un pochino più piccolo sono al di sotto del PIL per capita rispetto all'Italia però il fintech è un po' più mosso ci sono già dei neobanks ce ne sono sei o sette due a Barcellona conosco i founders neobanks new banks sono dei revolute quindi c'è il revolute di Barcellona e quindi diciamo è un mercato che si è mosso un po' di più in molti aspetti non riesco a capire perché però vabbè quindi uno orizzontale è aprire in più paesi d'Europa Spagna Portugallo poi vedremo se Francia Germania o dove andare Stati Uniti noi li abbiamo come target probabilmente adesso lo shifteremo un annetto in più perché Stati Uniti Stati Uniti è un mercato molto difficile però che nel fintech è molto più indietro rispetto all'Italia è un paese molto più regolamentato molto più complessa la regolamentazione che c'è perché la regolamentazione viene fatta sugli issuers quindi se l'azienda ha un prodotto che sta pubblicando sulla piattaforma non solo la piattaforma deve essere regolamentata ma anche l'azienda che mette il prodotto esempio l'equity crowdfunding c'è una regolamentazione che si chiama reg CF che limita a un milione di dollari l'importo massimo che può emettere però deve andare dalla CONSOB americana che è la SEC a registrare i documenti dell'offerta pubblica un po' come se fosse il prospetto Stati Uniti è molto complessa ogni Stato poi ha la sua CONSOB se mi permettete quindi lo Stato di New York ha la sua eccetera eccetera quindi quello lì a livello regionale però è un paese che noi abbiamo visto che il mercato è dieci volte il mercato europeo dal punto di vista fintech sono più indietro difatti stanno facendo dei grandissimi successi sia Revolut che N26 ad esempio come Neobanks negli Stati Uniti ed è un paese dove si può fare tantissimo i tassi di interessi non hanno un cap quindi puoi fare dei prestiti al 18-19% ed è una cosa diciamo molto molto interessante diciamo quella lì dal punto di vista nostro piattaforma evidentemente mercato secondario ok quello è fondamentale per noi incorporare la parte cripto scusate mercato secondario per l'acquisto da parte vostra della piattaforma da parte di altri anche di altri free free assolutamente e soprattutto permettere anche a emissioni grosse limitate a investitori istituzionali permettere anche poi agli investitori non istituzionali di acquisire quote di un prodotto determinato e ti faccio un esempio molto basico a parte il fondo di private debt io da un po' di anni che investo anche in start up ok un po' a livello personale e sto cercando anche di aprire un fondo di venture capital per start up che sono già operative ok però che magari non stanno cominciando a fatturare non hanno ancora fatturato e che quindi non accedono al livello che viene chiamato series A in Italia ci sono pochissimi fondi di venture capital che entrano nel seed ok e se li contiamo a livello europeo in Italia ci sono 15 fondi iscritti all'IFI a Barcellona ce ne sono una quarantina solo a Barcellona ok rispetto ai 15 che ci sono in tutta Italia fondi di solo fintech ce ne saranno una quarantina ad esempio solo in Francia ok in Italia fondi che faccia solo fintech che io sappia non c'è neanche uno spiegarci così quindi anche lì diciamo sono dei prodotti interessanti da fare quindi nel momento in cui noi riusciamo ad avere una piattaforma con un secondario che ti permette di tokenizzare dei prodotti finanziari o degli investimenti su degli elementi su cui l'investitore tradizionale non ha accesso ok secondo la nostra visione è quella di poter dare accesso anche ad altre persone quindi investitori retail a prodotti di questo tipo ok quindi se io volessi comprare il fondo dell'Orange quando era a 130 perché so che magari a 170 ci arriva di nuovo di riuscire a farlo e non dover sborsare 130.000 euro per comprarne 100.000 mi spiego quindi dici cavolo prendo pezzettini allora riesco a fare qualche lavoro meglio lì ok dal punto di vista dei progetti quindi la nostra idea è quella di crescere molto molto forte a livello orizzontale quindi su più mercati ampliare sempre di più il tipo la tipologia dei prodotti che offriamo gli investitori locali ok sempre rimanendo però nell'ottica debt bond e lending asset ok ok allora Giorgio scrive mi sembrate tutti molto competenti grazie farete il bis dobbiamo volentieri sì esatto anche parlando di altro aggiungo lunedì facciamo lunedì alle 6 quindi lunedì prossimo faremo quello con i ragazzi di Plus Biomedical quindi parleremo poco della nostra piattaforma parleremo un po' di per TPLending parleremo quasi solo esclusivamente del loro progetto eccetera però se ci sono altre domande tutti benvenuti ok dove dove sempre qua se vuoi aiutarci possiamo fare anche la live a YouTube se vuoi comunque vi facciamo sapere se ci sarà una cosa di questo tipo e invece ok Zoom Diego a quando la tua apertura a New York ti aspettiamo Max D'Oralia ah grande Max speriamo su una Spossible e però io pensavo entro fine anno 2020 ma la vedo dura eh dura eh eh anche la situazione di New York non è la migliore delle immaginabili perché tutto molto bloccato vediamo se riusciamo a farla entro 2020 ci sta se no aspetteremo un po' ok allora Ironblur complimenti bravi grazie ok non ci sono più domande io direi che siamo andati ben oltre l'ora fissate siamo un'ora e cinquanta quindi possiamo possiamo concludere questa live io ringrazio prima di tutto Diego e Paolo per essere stati qui negli ospiti sul canale e avete mostrato ancora una volta la vostra grande competenza in quello che state facendo e ringrazio tutti voi che ci avete seguito che vedendo dalle statistiche siete in una cinquantina ma siamo arrivati anche a ottanta quindi in attesa tutta questa partecipazione vi ringrazio tantissimo e io direi che possiamo terminare qui la live quindi vi ringrazio ancora Diego e Paolo e un saluto grazie a te Leonardo e non posso che ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e mi scuso se sono stato un po' troppo chiacchierone veramente no nessun problema è un tema che mi appassiona e che le persone che mi conoscono sanno che mi devono dare una botta in testa per farmi star zitto quando parlo di questi temi però grazie a tutti voi per aver partecipato e vi aspetto sulla piattaforma scriveteci se avete dubbi ok ti ho perso grazie saluto io nel frattempo che ritorno Diego ciao ciao a tutti grazie grazie adesso devo aver seguito la diretta grazie a te Leonardo abbiamo perso Diego forse forse ce l'abbiamo ci siamo ok erano poi stabili la connessione in internet ok bambini hanno cominciato a streamare Disney Plus probabilmente ok utilizzo top ci stanno salutando tutti ciao ciao Iron Brulè ciao Matteo ciao Giorgio Z ciao 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 a tutti mi direi che ciao grazie ciao 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 a tutti grazie